Grazie Stefano e ciao a tutti. Ecco, vogliamo oggi parlarvi di questa esperienza, di questa biblioteca di distretto Bologna Est, una esperienza di questo gruppo eterogeneo di servizi bibliotecari che appartengono a diversi enti pubblici di questo territorio. Ma ecco, entriamo magari nel dettaglio appunto partendo dal contesto. Il contesto è quello dei distretti culturali, è la modalità con cui un po' viene organizzata la politica culturale all'interno della città metropolitana di Bologna. Nello caso specifico parliamo del distretto Bologna Est, una zona della pianura appunto a nord-est della città metropolitana di Bologna che comprende 15 comuni, circa 160.000 abitanti. Nel nostro caso specifico parliamo di 17 biblioteche che gestiscono 400.000 documenti circa, ma anche servizi e attività di promozione che svolgiamo insieme già da diversi anni. Le attività che noi svolgiamo sono diverse, oltre quelle classiche della biblioteca. E sentivamo appunto la necessità anche di comunicare più efficacemente con il nostro pubblico, con l'utenza reale e potenziale, quello che facciamo nel modo più coerente possibile. Oltre ovviamente le modalità di accesso ai nostri documenti, come classicamente è per le biblioteche, quindi gli accessi ai cataloghi online nel nostro caso, la gestione dei prestiti interbibliotecari fra di noi per fare arrivare i documenti ai nostri utenti nelle biblioteche loro più vicini, ci sono anche progetti trasversali che qualificano meglio il nostro patrimonio, comunque le nostre potenzialità per le quali facciamo diverse attività di formazione ovviamente dei bibliotecari, ma anche di acquisizione condivise e coordinate, ma anche appunto attività di promozione. In questo contesto appunto la relazione con l'utenza diventa fondamentale ed è imprescindibile avere un accesso a internet, fornire un accesso a internet al nostro pubblico che sia coerente, efficace, aggiornato e aggiornabile e che rispondesse alle esigenze di una realtà abbastanza complessa. Come dicevamo, 17 biblioteche dislocate in un territorio relativamente ampio con proprie identità, ma anche con alcuni progetti comuni. Da questo è venuta la necessità appunto di costruire un sito. Noi avevamo già un sito, ma che presentava diverse difficoltà legate appunto al suo aggiornamento e alla sua capacità comunicativa. Avevamo necessità appunto di promuovere, promuovere le attività classiche che noi già svolgiamo, condividerle con il nostro pubblico, comunicare con più razionalità, più efficienza, ma anche di crescere fra di noi condividendo le buone pratiche e valorizzando le professionalità che ciascun bibliotecario sviluppa. Sono tutte biblioteche che hanno realtà medio-piccole, a parte alcuni casi, e comunque con non tantissimi operatori, una buona parte sono mono-operatori. E quindi rappresenta una ricchezza, una potenzialità enorme quello di poter mettere insieme questo gruppo di lavoro con delle caratteristiche che ciascun bibliotecario, anche nel suo territorio, ha sviluppato e quindi farlo diventare una ricchezza per tutti, per tutto il pubblico che noi serviamo sostanzialmente. E in questo contesto, ecco, allora avevamo necessità di avere un sito, un luogo per comunicare con il nostro pubblico che oltre a rispondere ovviamente alle normative necessarie di gente legate all'Agit, per le quali noi avevamo bisogno sicuramente anche di un aiuto per essere in questo senso completamente aggiornati, ma anche appunto un sito che consentisse a ciascuno nella nostra rete di poter aggiornare costantemente il sito stesso non solo nelle schede di presentazione o comunque gli aggiornamenti degli orari, delle chiusure delle biblioteche, ma anche delle attività che facciamo che sono innumerevoli. Favorisce la cooperazione fra di noi, fra i bibliotecari, per ovviamente efficientare i nostri servizi di promozione, ma anche con le nostre utenze, in una sorta di dialogo. E che fosse anche uno strumento flessibile perché proprio per la sua natura di rispondenza, bisogni che avverte nel territorio, le biblioteche cambiano, cambiano la loro struttura, cambiano il loro patrimonio, cambiano le attività che si fanno e quindi necessariamente occorreva uno strumento che avesse queste caratteristiche anche di flessibilità. Ed è su questi presupposti che ci siamo mossi tramite anche l'aiuto, anzi soprattutto con l'aiuto del Retartal, ci ha aiutato un po' anche nella prima fase, esplodendo le nostre necessità e le nostre attività, a rimettere nel giusto posto le cose. Quindi in una progettualità realizzata insieme con il Retartal per questo strumento siamo ripartiti appunto dagli ideali, delle aspettative, prima ancora che non dall'oggetto finale, insomma dall'aspetto estetico del sito stesso. Ma quindi il tipologia di servizio che volevamo offrire, le aspettative che avevamo nei confronti di questi servizi, anche in relazione a quelli che sono i compiti istituzionali delle nostre biblioteche, ma anche la nostra esperienza, e sulla base di questo lavoro che è stato molto importante proprio per noi, anche per ripensare sostanzialmente in questo contesto specifico, cioè di comunicazione, anche tramite un sito e quindi anche in uno spazio particolare, ripensare i nostri servizi stessi. Per cui sono nati appunto una serie di sentieri attraverso i quali abbiamo cominciato a progettare, quindi non solamente un aspetto grafico, diciamo, ma proprio un vero e proprio strumento di servizio che potesse raggiungere quegli obiettivi che ci eravamo dati nei confronti della popolazione che intendiamo servire. Da lì poi sono nati appunto gli strumenti, insomma che sono nati un pochino al di là dei nostri schemini che ci eravamo costruiti, per quanto poi alla fine non molto lontani da quello che poi è avvenuto, ma ripensando effettivamente al servizio, all'idea fondamentale che faceva nascere quella necessità di avere questo sito. Ed ecco finalmente che siamo arrivati ad avere questo spazio che rappresenta effettivamente, efficacemente, un luogo dove possiamo realizzare una rete di appunto 20, far funzionare una rete di 20 bibliotecari e più con centinaia di contenuti che vanno oltre all'accesso ai singoli cataloghi e quindi al patrimonio effettivamente posseduto. Qui abbiamo appunto l'home page nella quale appunto c'è una serie di menu che di fatto vanno da semplice presentazione della scheda di ciascuna biblioteca con gli orari, i recapiti, le informazioni di base dei servizi che ciascuna biblioteca più o meno quasi tutte hanno una serie di servizi uguali ma in alcuni casi gli accessi o alcune cose sono diverse e danno modo all'utente di capire quella biblioteca che tipologia di servizio specifico può offrire. Ma via via anche servizi più particolari sui quali abbiamo puntato proprio in una relazione che vogliamo costruire con il nostro pubblico viva, presente, aggiornata. Insomma, in particolar modo per esempio questi sono i consigli di lettura che vengono fatti a cura di ciascun bibliotecario della rete e vengono pubblicati secondo una linea editoriale che abbiamo costruito insieme per cui settimanalmente vengono pubblicati i consigli che rientrano poi in macro categorie quindi per l'utenza è più semplice a raggiungere narrativa, saggistica, bambini e ragazzi ma è nell'home page che si trovano i singoli consigli ogni bibliotecario in una relazione diretta con il pubblico potenziale oltre che quello reale presenta un libro in maniera anche amichevole in qualche modo non è semplicemente un elemento di critica noi adesso abbiamo un'organizzazione che prevede un comitato di redazione è una sorta di content manager che raccoglie il secondo calendario che abbiamo condiviso e ci aiuta nella pubblicazione ma in molti casi l'accesso è possibile anche ai singoli bibliotecari soprattutto per l'aggiornamento delle schede ma anche in questo caso per aggiornare il sito con i consigli di lettura che vediamo qua fianco che vengono pubblicati come vi dicevo settimanalmente questo è un po' le aree macro aree che è possibile trovare all'interno del sito all'interno del quale ci sono in questo caso i consigli ma ci sono anche bibliografie ci sono per esempio anche questo spazio che abbiamo voluto creare specifico proprio anche per il tipo di comunicazione che offre un sito internet ma è una sitografia quindi quello che possiamo trovare online secondo alcuni criteri sono appunto quelli leggere ascoltare, visitare, imparare si tratta quindi di una sitografia legata per esempio al mondo della lettura siti di promozione biblioteconomica bibliotecaria consigli di nostri lettori più o meno forti oppure sulla musica per l'ascolto della musica o l'orientamento in questo caso oppure per visitare sono per esempio i siti di musei per lo più italiani europei e internazionali soprattutto a partire da quelli che offrono per esempio un supporto interessante dal punto di vista delle viste online o di materiali che condividono sfruttando anche in questo caso la rete come elemento di condivisione imparare ovviamente l'enciclopedia online ma anche altri strumenti per la conoscenza la prima informazione oltre ovviamente come vi dicevo gli strumenti classici che sono sostanzialmente quelli del catalogo il catalogo online delle schede delle singole biblioteche e qui troviamo appunto in Trova Libri e Film i link che ci servono che possono servire gli utenti per trovare il patrimonio e anche i link alle nostre biblioteche digitale a cui noi aderiamo che offre la possibilità di accedere a una grande quantità di informazioni di documenti di audiolibri libri ma anche dati che è possibile consultare online dalla nostra utenza e via via bibliografie specifiche pensate per la nostra utenza in questo strumento noi abbiamo ritrovato la possibilità per ciascuno di noi di andare a contribuire con quella che è una professionalità specifica di ciascuno con una nostra appunto particolarità e da qualsiasi punto della rete un territorio come vi dicevo relativamente vasto e articolato anche organizzativamente singoli comuni altri accorpati in unione qualcuno con cultura biblioteche conferite altri no ma in questo mondo noi riusciamo sicuramente a mettere insieme tutte le nostre proposte attività o ovviamente gli aggiornamenti sulle attività laboratoriali di presentazioni cosa che valorizza un patrimonio culturale importante attraverso una specifica modalità di dialogo con la nostra utenza e anche intervenendo con alcune proposte particolari proprio per il mondo della rete che si presenta come un luogo importante per la prima informazione per lo scambio e l'informazione quindi sì è stata un'esperienza interessante un po' perché abbiamo raggiunto alcuni obiettivi ma li abbiamo chiariti anche attraverso il lavoro fatto insieme e ci ha aiutato a raggiungere questo strumento che ancora stiamo cominciando ad approfondire e conoscere meglio prendendolo migliore visto anche sfruttando le potenzialità di flessibilità che ha relativamente semplici anche per un'utenza non esperta come quella dei bibliotecari e che quindi ci consentirà anche in futuro eventualmente di rivedere di ripensare questo sito per poter raggiungere degli obiettivi che siano conformi a quelle che sono magari nuove esigenze valorizzando altre tipologie di attività che stiamo cominciando già a progettare conoscendo meglio questo sito che da poco è stato lanciato nel cui vediamo già qualche risultato importante per ora io mi fermerei qui vi ringrazio ancora grazie a tutti